Credo che la prima convivenza su cui dobbiamo un pochino fermarci a riflettere è la convivenza con noi stessi. Non è affatto scontato che noi siamo fatti tutti di un pezzo e andiamo d'accordo con noi stessi. Noi anzi siamo il risultato, anche quando non ce ne accorgiamo, di un continuo processo di negoziazione al nostro interno. Questo tema della convivenza interiore è il primo passo, è il primo tagliando che dobbiamo fare per avviarci al secondo passo che è molto importante, che è quello della convivenza con l'altro. La difficoltà di convivenza io-tu nasce quando c'è una difficoltà anche di convivenza io-io. Sicuramente sul piano delle relazioni, per esempio se non abbiamo sviluppato una buona capacità di ascolto, di immedesimazione, quella che ormai oggi con una parola molto usata si chiama empatia, anche la capacità di mettersi nei panni degli altri, ecco che si ripercuotono sulla relazione, sull'io-tu. Quando vogliamo avvicinarci a qualcun altro paradossalmente prima dobbiamo allontanarci, avere una visione di insieme per sapere poi che il nostro avvicinarci sarà un avvicinarci che non è intrusivo, che non è contundente, che non è offensivo e che non è soprattutto narcisistico, cioè mi avvicino a te per farti vedere quanto io sono voluminoso e importante e quindi magari schiacciarti con la mia ombra. Quando la relazione si raffredda nell'osservazione va riscaldata con la partecipazione, ma quando si riscalda troppo nella partecipazione va un po' raffreddata con quella funzione, diciamo così, di io osservante e autoosservante che mette lì la relazione e dice guardiamola insieme e vediamo come possiamo ripararla, diciamo così, se si è rotta. Ogni esperienza traumatica, e adesso stiamo parlando dell'esperienza pandemica, diciamo così, va sempre pensata al confine tra l'oggettività della minaccia, che è uguale per tutti, e la soggettività della risposta, perché ciascuno risponde in base anche a come è fatto, alla sua solidità, alla sua storia, alla rete di relazioni che lo sostengono o la sostengono, all'altra parola oggi molto abusata, oltre a empatia e resilienza, cioè in base alla sua resilienza, alla sua capacità strutturale di reggere un peso. I meccanismi di difesa sono una gamma di possibilità che consentono all'individuo di fare bene o male i conti con l'evento minaccioso.